Regione Toscana, il Consiglio regionale L'ultima seduta del Consiglio regionale ha visto all'ordine del giorno una discussione su Firenze Fiera. Il Consiglio delibera una risoluzione proposta dal Partito Democratico nel quale si prevede entro la fine dell'anno 2023 un aumento di capitale della società per 28 milioni di euro con la ridefinizione del sistema di governance dell'ente e la sottoscrizione del nuovo patto parasociale. La Regione detiene il 31,95% delle quote di Firenze Fiera e ha approvato questo piano di rilancio presentato in aula dalla Giunta regionale. Una situazione delicata dal quale Firenze Fiera deve uscire, la Regione deve fare la sua parte così come gli altri soci pubblici ma anche con la ricerca di un partner privato che avverrà attraverso un bando di manifestazione di interesse. In altre situazioni questa presenza ha anche funzionato ma dobbiamo cogliere questa occasione così come abbiamo sollecitato anche in precedenza per dotare la Toscana di un polo fieristico unico o comunque coordinato. Noi abbiamo tre strutture fieristiche che è Firenze Fiera sicuramente la più attrattiva dal punto di vista logistico perché Firenze è ovviamente una città che è riconosciuta nel mondo ma abbiamo anche la struttura di Carrara e la struttura di Arezzo. Ecco in questo percorso che riguarda Firenze Fiera l'invito che abbiamo rivolto all'assessore e alle Giunte è quello anche di creare le condizioni e spingere perché in Toscana ci sia una proposta fieristica coordinata. Sì ovviamente il sistema fieristico toscano ha bisogno di essere armonizzato, organizzato e programmato. Il nostro è un voto di fiducia sulla possibilità di portare intanto un partner privato nella governance di alleggerire ovviamente la dimensione e l'impegno pubblico ma per cercare di rilanciare e migliorare l'integrazione fra realtà come Firenze, Arezzo, Carrara e non solo. Ci sono di mezzo anche le opportunità per le città termali, serve integrare l'offerta fieristica e serve soprattutto fare un unico calendario a livello nazionale e provare a parlare una lingua sola per fare della Toscana un luogo dove le fiere vengono programmate, organizzate e distribuite su tutto il territorio regionale. Molto critiche le opposizioni che non vedono nel piano un rilancio ben definito e costruttivo per il futuro dell'ente. Di fronte a una società di cui la regione è socio e proprietaria quindi di una parte ha un bilancio disastroso, oggi arriva una comunicazione dell'assessore Marras perché richiesto dalle opposizioni nuovamente, altrimenti nessuno si sognava di venire in aula a raccontarci quale futuro per Firenze Fiera, in cui si presenta un piano dicendo che la regione toscana è pronta a spendere 18 milioni di soldi pubblici, quindi i cittadini della Toscana vedranno spendere 18 milioni dei loro soldi per risanare una società basandosi su uno studio, un piano di risanamento fatto da un advisor che a pagina 1 del piano che è presente e che redige e scrive, attenzione non ci prendiamo la responsabilità dei numeri e delle procedure che ci sono scritte in questo piano perché ce l'hanno fornite Firenze Fiera e noi non abbiamo assolutamente contezza di quello che c'è scritto, un piano di risanamento in cui si definisce il piano industriale di Firenze Fiera scarso e su queste basi, quindi su un piano industriale scarso, su una tempistica approssimata, su un piano di risanamento fatto da un advisor dal quale l'advisor prende le distanze, noi andiamo a investire 18 milioni di euro. Sicuramente la situazione di Firenze Fiera è una situazione delicata ma che è anche sintomatica rispetto a una gestione delle società partecipate che già la Corte dei Conti ha censurato sotto molti aspetti da parte di Regione Toscana. Si tratta molte volte di società che presentano bilanci in ritardo, di società nelle quali la Regione non svolge quell'attività, diciamo, centrale anche di governance che sarebbe richiesto, benché in Firenze Fiera abbia ad oggi esclusivamente un'attività di partecipazione. Si tratta di una situazione in cui la Corte dei Conti addirittura parla di salvataggio ad ogni costo ed è proprio il caso tipico di quello che sta succedendo su Firenze Fiera, una società che ha delle criticità a livello di indebitamento importanti, una società che Regione Toscana ha deciso comunque di finanziare. Su questo aspetto diciamo che se da un lato si è cercato di ricomporre quella che è rastrata la frattura tra i soci pubblici, evidente rispetto alla volontà di dare continuità all'attività delle fiere, è chiaro che oggi si pone però il problema di cosa si voglia fare, soprattutto sulla struttura della fortezza. Ci sono in ballo lavoratori, c'è in ballo il futuro di un settore economico che dovrebbe essere comunque un valore trainante per l'economia toscana. Quindi sicuramente una scelta non facile. Però la questione centrale è una. Oggi che tipo di approccio Regione Toscana vuole dare alle società partecipate? In ultimo ricordo che anche qui la Corte dei Conti censura il fatto che questa Regione concentri le sue partecipazioni in tre società fieristiche. Firenze, ma anche Arezzo e Massacarrara. Situazioni anch'esse che presentano difficoltà di bilancio. In particolare ancora per quanto riguarda le società partecipate, dove la Corte ha correttamente richiamato il fatto che la partecipazione da parte dell'ente Regione sta all'interno di un provvedimento ormai legislativo, il testo unico che dà dei vincoli ben precisi, che siamo in una situazione in cui moltissime di queste partecipate, cito fra tutte, visto che all'ordine del giorno anche di questo Consiglio regionale di ieri se ne è discusso, Firenze-Fiera, dove abbiamo dei disavanzi importanti, abbiamo delle situazioni in cui si rincorre il tentativo di un ripianamento che spesso non si realizza, che non succede, e dove, altro elemento importante a mio avviso da considerare, dove la Regione, che spesso è socio di maggioranza o comunque socio particolarmente importante, talvolta addirittura in house, non riesce a verificare la situazione, perché spesso gli atti che arrivano fanno riferimento a contabilità precedenti, aggiornati al 2021, magari aggiornati insomma non certamente allo stato degli atti come dovrebbe essere, e quindi su questo c'è un altro elemento inquietante che la dice lunga su quello che è il quadro dei conti di questa Regione. Il Consiglio regionale ha approvato, con il solo voto contrario del Movimento 5 Stelle, la proposta di risoluzione in merito alle prospettive dei comprensori sciistici della Toscana in relazione alle conseguenze dei cambiamenti climatici in atto. Il documento proposto su iniziativa della Commissione Aree Interne ha lo scopo di sollecitare una tempestiva erogazione delle risorse e però invita allo stesso tempo la Giunta regionale a individuare insieme al Governo nazionale piani straordinari di intervento finalizzati a prevedere meccanismi di aiuto e sostegno statale da destinare al sistema produttivo delle stazioni scistiche della Toscana. La Commissione Aree Interne propone anche che ci siano degli interventi straordinari e degli aiuti anche nelle prossime manovre finanziarie di Regione Toscana per poter stabilizzare le aree di montagna. Quinto inverno più caldo dal 1800, il secondo più caldo dal 1955. Questo ci ha detto il Lamma in Commissione Aree Interne, dove abbiamo fatto un confronto a tutto campo con i sindaci, gli operatori del settore, il Lamma e gli assessori regionali. Per le stazioni scistiche che sono sull'Appennino della Toscana ma più in generale su tutta la dorsale appenninica in Italia lo scenario, vedendo la sede storica, è chiaro. La stagione invernale tende sempre più a ridursi e quindi ovviamente si pone un tema di prospettiva di medio-lungo termine. Il turismo invernale è straordinariamente importante in termini di reddito ma se questo è lo scenario dal punto di vista climatico non possiamo permetterci di creare situazioni di grave difficoltà in prospettiva per questi territori. Occorre accompagnare azioni di adattamento di questi territori a un mutato scenario dal punto di vista climatico diversificando l'offerta turistica, potenziando la parte estiva, la parte sportiva e tutta una serie di altre linee che devono nascere da un confronto con i territori. Noi non possiamo andare giorno per giorno dietro all'emergenza di fronte a uno scenario che ormai è chiaro. Dobbiamo accompagnare questi territori con scelte di medio-lungo termine che hanno bisogno di investimenti e per quello che noi chiediamo al Governo nazionale di mettere in campo un'azione specifica per l'adattamento al cambiamento climatico delle stazioni scistiche appenniniche Allo stesso tempo ovviamente abbiamo chiesto alla Giunta regionale di mettere in campo una progettualità per i prossimi anni altrimenti la stagione 2023, soprattutto le difficoltà e i danni che ci sono stati rischia di essere una delle tante. È necessaria in Toscana armonizzare l'attività delle stazioni scistiche serve uniformare gli impianti di risalita serve fare una legge quadro generale della montagna per definire le aree sciabili e soprattutto per garantire il trasporto pubblico degli impianti di risalita a tutti i cittadini toscani e non solo ai turisti e serve soprattutto favorire una fruibilità nei mesi ovviamente invernali con impianti di innevazione a carattere artificiale di innevamento a livello artificiale ma soprattutto con delle risorse che sostengano un settore che altrimenti rischi di andare in difficoltà anche a seguito del cambiamento climatico che differenzi la stagione turistica della montagna e faccia della montagna toscana un unico grande sistema della neve un po' come deve avvenire sulle terme così con la montagna la Toscana deve uniformare e standardizzare a mio avviso le tariffe, l'organizzazione, la qualità dei servizi e fare un unico grande livello di promozione del sistema della montagna l'opportunità e la legge per la montagna intanto bene una risoluzione che va in questa direzione poi bisognerà nei prossimi due anni definire in maniera puntuale tutti questi aspetti quindi con questa proposta di risoluzione si chiede che la giunta continui nel tempo a dare aiuti a queste comunità dove si scia e inoltre anche si chiede al governo che porti avanti un decreto sugli appennini sembra che ci siano tanti soldi in ballo non si sa bene come verranno destinati sia a tutti gli appennini o solo alle località sciistiche diciamo che noi siamo favorevoli a questa proposta perché in un primo tempo sembrava rivolta molto agli impianti sciistici io però ho fatto presente che i problemi sono anche di bar, ristoranti, attività commerciali attività di noleggio tutte quelle attività che ci sono nei comuni dove si scia e quindi un'attenzione occorre anche a questi che finora hanno resistito e devono continuare a resistere perché non si possono far spopolare questi territori penso che sia necessario investire sicuramente su forme alternative di andare in montagna lo scialpinismo, le sciaspolate, il turismo lento estivo ma sia necessario anche tutelare il comparto neve classico l'impianto di risalita e per far questo si deve investire soprattutto nei bacini idrici perché alla betone, alla miata non nevica meno che a Cortina o in un'altra località rinomata delle Dolomiti semplicemente c'è un sistema di innevamento più efficace e più veloce quindi in una finestra climatica di 24, 36, 48 ore riescono a innevare tutto un intero comprensorio noi abbiamo difficoltà perché gli impiantisti, le stazioni invernali possono sparare una, al massimo due volte, due cartucce in una stagione perché poi finisce l'acqua e non ci sono più le disponibilità quindi la regione se vuole difendere il sistema neve se vuole difendere l'industria della neve deve investire nel nevamento artificiale deve investire soprattutto nei bacini idrici il che non significa poi far sviluppare nuove forme appunto di turismo come dicevo, il turismo non è soltanto lo sci classico penso allo sci alpinismo noi proponiamo con un atto di creare delle aree dedicate all'uscita alpinismo e alle sciaspolate proponiamo di investire sulle strutture ricettive altra cosa, non si deve mortificare coloro che provano a mettere in campo iniziative anche fuori, cosiddetta fuori stagione del sistema neve e soprattutto di come cercare di rilanciarlo sentiamo parlare ormai, almeno dalla nostra presenza nel Consiglio regionale cioè dal 2015 e prima di pensare a nuovi risorse, a nuovi stanziamenti vorrei fare una domanda che finora è stata in evasa da questa giunta quanto denaro è stato speso negli ultimi dieci anni per il rilancio del sistema neve quella neve che vediamo bene oggi con i cambiamenti climatici essere sempre più assente non solo sull'Appennino ma anche sulle Alpi sono stati soldi ben spesi oppure quella destagionalizzazione che più volte abbiamo chiesto doveva essere attuata in modo migliore come per esempio in Trentino e in altre regioni hanno fatto perché altrimenti ci ritroveremo per l'ennesima volta a dare dei fondi a soggetti pubblici, privati per rifar ripartire un tipo di turismo che è palesemente in questo momento non corrispondente a quella che è la situazione climatica attuale e questo comporta di spendio di denaro pubblico che è il problema principale quindi la domanda da farci è sono stati soldi ben spesi si possono spendere meglio questa è la domanda che nessuno si fa